bella vecchi trapani siamo in grana ma ci siamo tornati con un nuovo episodio del fuck you time che hai fatto? un cabello un cabello del fuck you time che risate finte quanto siamo coglioni non sono risate finte basta basta Naufel Traversi ci chiede avete in mente dei futuri? io sì per esempio andrò farò scoperò caricherò finché vedrai tutti pensavano ai video su youtube e invece no siamo proprio semplici e te hai in mente qualche futuro? sì scoperò berrò molto morirò morirò quella è la cosa sicuramente fanno soldi tanti soldi soldierò soldierò quindi guadagnerò pagherò e spezzerò e lamborghinerò eh quello che sta eh lamborghini huracan allora adidas e asias loquendo morendo morirò mi sa che stai un po' troppo fate la fusione in dragon ball no come in dragon ball fate la fusione in dragon ball sta per dire fate la fusione in dragon ball come in dragon ball fate la fusione in dragon ball vabbè fate la fusione come in dragon ball yes fu Ma, 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 ma che cazzo, ma che, oh, perché sono così alto, che cazzo, ma che, che è, oh, oddio, che è sto cappello Raffaele Granada ci chiede qual è la serie o il video che vi diverte più fare, prego rispondi Allora, indubbiamente a livello di fare il video, proprio nel senso farlo fisico, è rotto di vision Perché, comunque, giochiamo a FIFA, ci divertiamo, anche se, ogni tanto, seglio della pena per i vari bug e script che ci capitano Però, anche, poi, un marromerda che è molto figo, cioè, mi fa tagliare la cifra Allora, come ha detto a lui, come gioco ci diverte più sicuramente FIFA, ma anche perché si vede, perché facciamo più video di tutti su FIFA Yes E poi mi diverte molto fare i challenge, perché, comunque, ognuno è diverso tra di loro, tra di esse Ognuno è diverso dall'altra e quindi Ognuno è diverso dall'altra, quindi, ognuna, eh, sì, è diversa dall'altra È diversa dall'altra Cioè, quindi capite bene che, essendo diversa dall'altra, eh, come fosse, tantanile Perché è diversa dall'altra È giusto, per destra Milan Brunelli ci chiede Sei capace a fare i beatbox Come è tipo quel video che gira su YouTube Come fa, tipo Eh sì, poi sono anche i famosi beatbox di Klaus Oh, ah, oh, oh, ah Vai, si tagli ai capelli Spawk two Buzz, 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 buxz, buzz, buzz, buzzz Basta Dكل manche cose che sto a fare Troppo bravi Chi, 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 chi SCH cucchiaio di peperoncino, però siccome noi siamo sadici e non c'era del peperoncino a casa, abbiamo scelto di prendere un cucchiaio di wasabi no vabbè, facciamolo serio, vai aspetta aspetta, facciamo serio durerà parecchio il video ahahahah e dai hai fatto hai sorriso 3.000 volte, non t'ho detto un cazzo tanto buono il wasabi ti piace il wasabi mi importa se ne vedo dov'è va a fa' un curo Vanno qua sabbi Scenda la cremuccia Lo sta scendendo nero Mamma Porca troia Andrea Diana ci chiede Chi li ha dei video tra noi due? Ma è peggio della reaction video Porca troia In realtà nessuno di due Cioè Nessuno di due Non li ha dei video tra nessuno Non si caricano da soli Nessuno di due Edita un video E un da tutti i video Tutti editano un video Tutti per uno Perché ogni challenge è diverso dall'altra No Allora è così I video delle 15 Li edita lui Quelli delle 19 Che sono soprattutto L'ottotivision Li edito io Adesso vicini ci chiede Di guardare Tu cazzo a capo Mangiando della cioccolata Ma questo non lo faremo In questo video E vi diciamo Se arriviamo a 5.000 like Su questo video 5 Non so tanti So solo 5 Mila Mila Esci Sono solo 5.000 like No ma io esco Quindi se arriviamo a 5.000 like In questo video Vieni qui Ma no Continua Allora Se arriviamo a 5.000 like Su questo video Faremo un video apposta Delle reaction A 2 girls 1 cup Mentre mangiamo Vero Quindi Lasciate un like Su questo video E ci becchiamo Al prossimo Bella A me mi piace Nutella C'è la capanna E merendine In quantità Yeah Grazie a tutti